La notizia che avete appreso dal sito, che cosa vi lascia? Quali sono gli interrogativi che vi suscita? Le notizie che abbiamo appreso dal sito ufficiale della KM Germania ci ha sicuramente lasciati interdetti e preoccupati. Questo perché all'inizio di settembre l'azienda ha chiesto di passare da due a otto giorni di contratto di solidarietà al mese qui sulla sede di Firenze e abbiamo scoperto la settimana scorsa che nello stesso giorno sul sito tedesco della KME veniva inserito un annuncio per la ricerca di personale amministrativo, clienti, fornitori per fare dei lavori che noi già svolgiamo qui a Firenze. Quindi la paura è che l'azienda voglia tenerci a casa con ammortizzatori sociali e fare gli stessi lavori in Germania. Questo per noi non è accettabile. Quali sono i dati del bilancio e anche i nuovi assetti organizzativi di questa azienda? I dati di bilancio sicuramente non sono positivi. Il nuovo assetto organizzativo insieme ai dati di bilancio ci preoccupa perché vede spostare l'attenzione verso i siti produttivi tedeschi. Noi ci troviamo alla scadenza di un accordo integrativo molto difficile dove abbiamo rinunciato anche a parte del premio di produzione dove abbiamo accettato l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in cambio di un mantenimento dei siti produttivi, delle lavorazioni e dei livelli occupazionali qui in Italia. È in scadenza alla fine dell'anno questo accordo e abbiamo chiesto all'azienda un incontro per rinnovare questo accordo perché vogliamo che KME continui a investire qui in Italia e a mantenere un futuro lavorativo e manifatturiero qui in Italia.